Che cos'è per te la scrittura? Nel mio caso, per la mia esperienza, è scrittura giornalistica, quindi è qualcosa che riparte ogni giorno e alla fine diventa davvero una specie di dialogo con i lettori, in cui si parla delle cose più comuni, delle cose quotidiane, e il bello è il brutto, perché il brutto è che alla sera le parole che è scritto di via Tangevecchie e il giorno dopo bisogna ricominciare a rinnovarle, quindi hai sempre la sensazione di rimanere in superficie, di non andare mai nella profondità delle cose. Grazie mille.